Mentre in Abruzzo si continua a vaccinare contro il Covid c'è un nemico in più da combattere. Lo scetticismo di alcuni co-regionali dopo il caso AstraZeneca, lo ha detto il presidente della regione Marco Marsiglio a margine della conferenza stampa sulle strategie, gli investimenti e le opere future nel prossimo decennio. Marsiglio si è soffermato anche sull'attuale situazione epidemiologica in Abruzzo. Voi sapete che già da due settimane, questa sarebbe stata la terza settimana in cui l'Abruzzo avrebbe potuto riaprire in giallo, quindi riaprire anche bar e ristoranti perché gli indicatori vanno tutti in quel senso. C'è preoccupazione nell'area marsicana in questi ultimi giorni perché abbiamo registrato una fiammata di contagi, altronde abbiamo non a caso mantenuto in zona rossa alcuni comuni importanti di quel territorio come Celano e Pescina e quindi vediamo adesso, noi seguiremo sempre come abbiamo sempre fatto giorno per giorno, settimana per settimana l'andamento e venerdì prossimo staremo lì a rivalutare qual è la condizione. Sui vaccini, noi vacciniamo i vaccini che ci forniscono come abbiamo dimostrato nei numeri. C'è una continua pressione promessa di accelerazione e di arrivo di maggior numero di dosi, lo speriamo. Da una settimana a questa parte circa si comincia ad apprezzare un cambio di passo nella fornitura che ci consente di riprogrammare finalmente l'attività a più lungo respiro. Io spero che non ci siano brutte sorprese, in particolare ad esempio su AstraZeneca, sarebbe auspicabile che finisse il balletto delle incertezze sia nelle forniture soprattutto sulla efficacia o la presunta pericolosità del vaccino perché oggi stiamo incontrando troppa difficoltà a convincere le persone a farsi somministrare quel vaccino, un 10-20% delle persone tende a rinunciare. Il presidente Marsiglioni ha parlato a margine della conferenza stampa su Abruzzo prossimo che contiene gli investimenti nella nostra regione nel prossimo decennio, risorse pari a oltre 2 miliardi di euro. Cominciamo dalle infrastrutture, l'Abruzzo paga un ritardo storico di infrastrutturazione, strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporto, quindi su questo tema concentreremo una parte importante della nostra attenzione e poi c'è tutto il tema generale della transizione verde, per certi versi è quasi obbligato nel senso che gli obiettivi europei sono quelli ma per noi è un'opportunità perché l'Abruzzo è già regione verde d'Europa, è una regione da questo punto di vista che ha degli asset strategici fondamentali di cui altri fanno fatica a disporre e quindi per noi è una sfida esaltante di mostrarci all'altezza della transizione ecologica. Insomma si vuole avviare l'iter per rendere finanziabili i 37 obiettivi contenuti nelle quattro aree strategiche nel tema trasversale, attuando così il modello di sviluppo per l'Abruzzo è stato detto del prossimo decennio.